Sono con Angele, autoctono. Allora, tu sei bergamasco vero? Bergamasco, nasce da una corna e ti impegno. Allora, dicono che il bergamasco si capisce mio, perché è difficile il dialetto bergamasco. E' il pesce del tedesco. E' il pesce del tedesco, bravo. Allora, come si dice donna in dialetto bergamasco? La donna. La fonna. La fonna, bravo. Bravo. Ma una volta i fonna, li potevi parlare con gli uomini? Mia tata. Eh, bravo. E' un po' dura. E' un po' dura i fonna. E i bambini come si chiamano? Tuzette. Tuzette. Adesso si chiamano Tuzette. Ma prima Tuzette. Ah, ti chiamano Tuzette? Si. Tuzette, no? E in provincia di Bergamo come si chiama la forchetta? Il Pirù. Il Pirù. Bravo. E l'imbuto? Il Petrieul. Il Petrieul. Bravo, bravo, bravo. Cioè, ditemi voi se il bergamasco è una lingua normale. Io lo so perché i miei sono della Valsecca. Valsecca? I miei... I miei... I miei nonni erano della Valsecca, ieri. L'erano trasversate la animagna. Tutto la animagna conosce tutto. Bravo, bravo, bravo. Tutto. Allora, qui siamo dove siamo? Siamo in Alta Val Brembana? Sì. Ma tu sei originario di qui? Ah, poi la cosa. La conosci la storia del mitico qui della... Come si chiamava il... Il Pedretti? Il Pianetti. Il Pianetti. Il Pianetti. Il Pianetti. La conosci? Io non la sapevo la conosce del Pianetti. Io l'avevo insieme, il mio padre. L'era messo nel Pianetti? L'avevo insieme. Mangia insieme, ma... Vagli ulti. C'è una storia che mi ha spiegato l'Alex. Praticamente di uno che ha ammazzato sette persone. Eh, sette. Non ho disoccupato di più. Non ho disoccupato di più. Che direi mei? Ufficialmente li hanno ammazzati solo sette. Solo sette, bravo. Ho mio padre, ma gli ho insieme. Il mio padre è del 97. Ok. Il Pianetti. E gli ha fatto un po' di trete. Quando si va su al Pianetti, si va a mangiare lì al Pianetti, con il mio padre che è stato sospedato. Stava usando gli archi, e gli ha messo la moneta o il Pianetti. O il Pianetti? Eh, però l'ha riscita se l'era messo del Pianetti, perché è occupato anche lì. Ma, il mio padre ha risolto tutti. Il mio padre ha fatto guardare il disdotto. Lo ha preso in Germania. Allora anche il mio nonno, è stato cavaliere di Vittorio Veneto, allora il tuo pa. E il mio cavaliere è colpa che... Eh no, si ha fatto la guerra. Ah no! Erano i ragazzi del 99. No, il mio padre del 97. Eh, il mio nonno era del 99. Il mio fratello Pianetti resta in Russia. 43 a Portagliac. Quello lì è stato purtroppo una pagina brutta della storia italiana. Dove... Ah, è morto in Russia? È stato disperso? No, è morto proprio. Con l'armir? La Portagliac. Lì era insieme. Lì la camerata era insieme a Lorenzo Lattaseola. Ti ha conosciuto, no? Ecco. Lì era insieme a Lorenzo Lattaseola. E sta congelato. Eh, vabbè, sono rimasti congelati. Bellissimo. Che mestiere hai fatto tu nella vita? Dovete laureare? Ho faccio... Ho faccio un Lazzarone. Il Lazzarone è poco. A che te hai cominciato a lavorare? 14, anche prima. A quattordesante a lavorare? Sì, ma sono qui in Bergami. Dopo sono andato in Francia. E spiegali cosa sono i Bergami. Bergami. I Bergami. I Bergami. I Bergami. Agricoltori. Eh, ma Bergami in Bergami. Devi spiegarlo qua perché non è che tutti capiscono, eh. Sì. Dopo sono andato in Francia. Sei anni in Francia. Ah, te sei stata in Francia? Sei anni. Ah, grande. Parli francese? Eh, un po' te sei la ricorda. Più per voi. Più per voi. Più per voi. Perché il Bergamase è come il francese. È abbastanza simile, no? No, ma il Patois sembra vero francese, no? Ma il dialetto più stretto bergamasco, si parla in Val Brembana o in Valseriana? Ma sembra che veniva sempre in Valseriana. È più stretto? È più stretto. Cioè parla più si aspira? Sì. Tipo andata e andata e. Andata e andata e niente. Eh, ma il Bergamase, il Val Brembana non è molto bello, eh. Ma tu conoscivi il padrone della Val Brembana? Il padrone della Val Brembana non è molto male. 80 anni. Ah, tu hai 80 anni? Ti porti bene. 80 anni. Ti porti bene. 80 anni. Non hai paura del virus? No, perché bevi un bottiglio d'ahì al dè e del piede. Del piede. Del piede ti butti giù. Stai nel lontano. Bianco rosso. Sempre rosso. Ah. Un'al dè. Un'al dè. Te sei in aria tutto il dè. Tutto il dè. Tutto il dè te sei in aria. E fino a 7 fa devo andare. Ti lavora tutto il giorno. E ti lavora? Tutto. E ti dà la benzina? Ti dà la benzina. Oltre che il sollievo. Allora il gare giù che è dell'Atalanta quando diceva la menona la fuierina. La fai la minestrina. Ah, tu sei che l'hai? La menona la fuierina. Fai la minestrina la minestrina. Anche io vado all'estadio. Ah, tu andai all'estadio? Ad l'Atalanta. Grande. Allora ti sei reso. La menona la fuierina. La fai la minestrina. La minestrina. Con banderù. Grande, grande. Sì, vieni tanto abbonamenti l'Atalanta. Eh beh, grande. Ti sei reso con il mio zio. Ti sei reso con il mio zio. Ti sei reso con il mio zio. La camerata. Ah, dai? Come fai? E' un mio sponsor. Allora che te conoscevi il mio zio Beppe che andasse in preso. Era dentro in brigate. In brigate? Ti sei reso in curva o ti andavi nei distinti? In curva in nord. Curva in nord. Eriamo al caos. Dopo me. Era un caos era. Allora, la bandiera. Il mio nono. Poi reso. La minestrina. La minestrina è mai assente. La minona poverina. Seminario a te ci dico. Il mio nono. Però la faccio il minestrina. La minestrina è mai assente. Poi reso la minestrina. E ti butti giù. E va bene. Diceva il mio pal. Diceva, sai cos'è. Quella barba la caccia con il grisino. Sarà la patta e tacca il vino. Allora, nuova moda per sconfiggere il virus. Un litro di bottiglione. Te saluti Angelo. Fai un saluto bergamasco. Un saluto? C'è un saluto bergamasco? Ciao a tutti. Pota. Pota ciao eh. Grande Angelo. Grazie.